Per ripristinare una redistribuzione del reddito e della ricchezza nel nostro paese in maniera equa è necessario che il governo intervenga immediatamente sulla revisione delle aliquote IRPEF, quindi lasciamo perdere tutte le politiche che fino ad oggi hanno agito attraverso i bonus, bonus Bebe, bonus Renzi, bonus ai giovani, dobbiamo intervenire in maniera drastica e molto seria con una riforma completa dell'aliquote IRPEF per ridurre la pressione fiscale sui cittadini e le cittadine sulle imprese.